È previsto per il 12 dicembre lo sciopero nazionale di ASP, che coinvolgerà tutta la Liguria, ma assicurerà negli ospedali e nelle strutture sanitarie e territoriali il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Saranno garantiti l'assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali. Possibile invece incontrare disservizi per esami e visite specialistiche. Si consiglia di verificare direttamente l'apertura e il funzionamento dei singoli reparti di interesse per quella data. Scopo dello sciopero? Protestare contro l'insufficienza del finanziamento previsto per il FSN 2018, contro l'eseguità delle risorse assegnate al finanziamento dei contratti di lavoro e i ritardi nei processi di stabilizzazione del precariato, compreso quello addetto alla ricerca. Secondo i sindacati bisogna difendere un diritto costituzionale dei cittadini. La legge di bilancio 2018 riferiscono esclude la sanità, unico settore della pubblica amministrazione tagliato fuori da politiche di investimento e di rilancio. La legge di bilancio 2018 riferiscono esclude la sanità, unico settore della pubblica amministrazione, da politiche di investimento e di rilancio, relegandola in una recessione perpetua e negando ogni segnale di attenzione nei confronti dei medici, dei veterinari, dei dirigenti sanitari dipendenti dell'SSN. Per far valere le proprie motivazioni, il 12 dicembre si fermeranno per 24 ore.